Siamo alla quarta edizione in cui diciamo nelle giornate dei sabati dell'anno scolastico cerchiamo di organizzare dei momenti importanti sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista del ludico e dal punto di vista scientifico. Per quello che sono i bambini abbiamo come ogni anno il teatro curato dal signor Campanile, abbiamo quest'anno l'introduzione della scherma, abbiamo diciamo impariamo insieme curato da Rita Occidente Lupo e abbiamo anche una rassegna musicale. Sono sei progetti, non rassegna musicale, diciamo un corso di studio musicale, sono sei progetti che la Giunta grazie anche alla partecipazione proposto dal vice sindaco Antonietta Raimondi, assessore alla pubblico istruzione che io ringrazio, la Giunta ha deciso di proseguire su questa strada per non tanto mantenere impegnati gli studenti delle scuole elementari ma quanto per dare loro un segnale di aggregazione sia sotto l'aspetto sociale sia sotto l'aspetto culturale. Dico dal primo settembre della direzione didattica di Vietri sul mare, l'attività che oggi andiamo a presentare con l'assessore alla pubblica istruzione avvocato Antonietta Raimondi è quella del sabato creativo, attività che io so essere già da tempo attiva su questo territorio e in particolare nella nostra scuola. Si tratta di dare l'opportunità ai bambini di frequentare nella giornata del sabato, quando le nostre attività didattiche sono interrotte, sono operativi solo gli uffici amministrativi, corsi di sicura rilevanza culturale e formativa che vanno da attività corali, attività musicali, lezioni legate all'apprendimento dei rudimenti della lingua inglese. Mi hanno detto e mi hanno confermato che questa attività ha prodotto sul territorio risultati sicuramente di grande valenza culturale, c'è un'attenzione particolare anche da parte delle famiglie che hanno sottolineato la positività di questi interventi. Mi auguro che anche quest'anno, a termine dell'anno scolastico, quindi a maggio e giugno, quando si concluderanno le attività di cui sopra, i risultati possono essere ancora positivi se non addirittura migliori dello scorso anno. Grazie. Antonella Remondi, anche quest'anno parte il progetto sabato creativo alle scuole. Sì, questo è il quarto anno da quando ho preso la delega dell'istruzione, è stata un'esigenza molto sentita dai genitori nel 2012, il primo anno 2012-2013 che iniziamo questo progetto, dato che c'era il sabato, la settimana corta, e quindi i bambini, il sabato mattino, non essendoci molte strutture ricettizie sul territorio a far fronte a questa esigenza familiare, principalmente delle mamme che lavorano, il Comune, d'intesa naturalmente anche con la direzione didattica, nonché con l'istituto salesiano, grazie anche ai progettisti, abbiamo posto in essere questo progetto che viene definito sabato creativo e nel suo interno comprende quest'anno sette microprogetti. Abbiamo il progetto del teatro, che sono quattro anni, che viene portato avanti dall'organizzatore del teatro di carta, il maestro Francesco Campanile. Abbiamo la prosecuzione del progetto della scrittura creativa, coordinata dalla dottoressa Maria Piavicinanza di Dentro Salerno. Quest'anno abbiamo anche la novità del mondo di favole, riuscire attraverso le favole a far capire quelle che sono le favole antiche, naturalmente di Esopo, quelle greche e romane, a far capire i principi morali che sono a base delle favole e quindi attraverso una narrazione semplice a far capire come si può coniugare il soggetto predicato e il complemento in modo semplice ed efficace. Un'ultima novità di quest'anno è il progetto del canto, tenuto dal soprano Roberto D'Alessio, che mira ad avvicinare non solo il singolo, ma anche i gruppi corali a questa particolare attività. Di nuovo abbiamo anche la scherma con l'associazione Nedonadi, coordinata dalla dottoressa Teresa Russo, che cerca di coordinare non solo la motricità del ragazzo, ma anche a fargli compiere delle scelte decisionali nel momento in cui questo deve scegliere quale azione intraprendere nel duello. Abbiamo una cosa molto simpatica, noi sappiamo che i ragazzi sono un po' ostici nei confronti della matematica e quindi quest'anno proprio per le scuole elementari, per avvicinarla a questa materia che con lo svilupparsi anche nel mondo informatico è diventato fondamentale, è stato ideato il progetto Giocare con la matematica, coordinato dalla dottoressa Antonella Cone. E alla fine, nell'ambito dello sviluppo psicofisico, quindi non solo quello mentale, ma anche il corpo mens sano, come dico sempre, in corpo resano, abbiamo anche il progetto del Takendo, il Takendo che è una disciplina che mira non è solo una disciplina di difesa, ma è una disciplina di far sì che il ragazzo sappia relazionarsi con le proprie forze, relazionarsi con gli altri misurando quelle che sono le proprie forze. e viene coordinata dal maestro Giovanni Linguadoca. Quindi diciamo che diamo ai nostri ragazzi un ampio ventaglio di scelta e spero che scegliano più discipline, proprio perché il Comune ci tiene affinché i futuri cittadini abbiano un escursus, abbiano un percorso completo in ogni fase e che lo facciano naturalmente divertendosi, perché questo è lo spirito, imparare, assimilare, divertendo, così viene recepito sicuramente in modo più pregnante quello che è il principio che i vari educatori vogliono loro.